e allora facciamo anche questa pratica deliberata tracciate linee verticali dall'alto in basso vicine fra loro con un tratto continuo mi raccomando dita ferme polso fermo muovere solo il gomito ora cominciamo anche dal basso verso l'alto e alterniamo in su e in giù in su e in giù provate anche a cambiare presa perché può essere un esperimento interessante e adesso proviamo anche con una penna questo esercizio crea un'abitudine sana ed è rilassante quasi una meditazione alla prossima